Un uomo di 49 anni, Carmelo Campanella di Misilmeri, è stato trovato senza vita in via Conte Federico, una strada laterale del rione Brancaccio che costeggia l'autostrada Palermo-Catania. Era sdraiato in un divano abbandonato per strada. Sono intervenuti sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nel luogo del ritrovamento è arrivato il medico legale e il PM di turno. È stata disposta l'autopsia per accertare la morte. Sul corpo non sono presenti tracce evidenti di violenza. L'uomo era arrivato in zona a bordo della sua Fiat Punto, che è stata ritrovata in via Giovanni di Stefano, non lontano dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere. Sono in corso indagini per cercare di ricostruire le cause della morte e il motivo della sua presenza in quella zona. Proseguono le indagini sulla donna di 33 anni trovata morta in casa alla Vuciria a Palermo, trovata nel soggiorno con un cavo elettrico attorno al collo e un biglietto con alcune frasi. A dare l'allarme era stato il compagno di 39 anni. Secondo una prima ricostruzione, il cavo elettrico sarebbe troppo corto per impiccarsi. Sulla lettera si stanno facendo accertamenti calligrafici. Lunedì invece i gestori del maneggio Riders Club, che si trova accanto al Residence Città Giardino di Vela Regione Siciliana, hanno trovato privo di vita nella stalla Soli Mullah un cittadino bengalese di 45 anni, incensurato, con permesso di soggiorno e lavoro regolare. Era morto da diverse ore.